Prenotazioni CUP, primo posto libero per una visita del controllo tiroide maggio 2025, no comment. E ancora, per un RM al ginocchio all'ospedale non sono stati in grado di darmi una data. Corre sui social la protesta dei cittadini in merito ai tempi di attesa per visite e prestazioni diagnostiche nella sanità pubblica e in particolare nell'ASL Toscana Sud-Est. Vale la pena allora in merito analizzare i dati riportati dal portale di monitoraggio dei tempi di attesa della regione toscana nella nostra ASL, in particolare ad Arezzo, per i codici di priorità assegnati dai medici urgente e breve, ovvero entro le 72 ore o comunque al massimo entro 10 giorni, la percentuale di richieste soddisfatte nei tempi previsti è molto alta. Le note dolenti, come segnalano i cittadini, è quando il codice di priorità invece diventa differibile, ovvero entro 15-30 giorni per le visite ed entro 60 per gli accertamenti, o programmata, da eseguire cioè entro 120 giorni. In queste due casistiche, sia le visite che le prestazioni diagnostiche, non tutte ovviamente, presentano molti rossi, ovvero percentuali di soddisfazione della domanda molto al di sotto degli standard. Tanto per fare un esempio, per una risonanza magnetica programmata, cioè entro i 120 giorni alla colonna vertebrale ad Arezzo, i giorni di attesa sono 151, 101 i giorni di attesa per un codice differibile, cioè da eseguirsi entro i 60 giorni, l'attesa dunque è quasi del doppio. Male anche per le visite ginecologiche, anche queste con codice differibile, nella zona retina si toccano i 53 giorni di attesa, in Valdiverina addirittura diventano 146, in Valdarno 120. E ancora per una visita dermatologica in Casentino si attendono 245 giorni, insomma una situazione, secondo molti cittadini, davvero inaccettabile.